Il Bosco Pantano di Policoro finisce in una speciale mappa. Scopriamo perché con Luigi Di Lauro. Per lo straordinario interesse delle caratteristiche genetiche della farnia, la rarissima specie di quercia che ancora ospita, l'oasi naturale di Bosco Pantano è stata inclusa tra le unità di conservazione genetica forestale a livello europeo. L'Ultima Foresta Incantata, il progetto finanziato da Fondazione con il Sud, a cui partecipano nove partner territoriali, oltre all'Università della Basilicata e al CNR, si conferma una giusta intuizione nel senso della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali della costa ionica lucana. Il progetto EOFGIS ha infatti creato un sistema informativo online con l'idea di costituire un network di aree forestali che ospitano specie caratterizzate da adattamenti o tratti genetici peculiari e di interesse per il panorama forestale europeo. Grazie ai dati genetici raccolti dall'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR nell'ambito del progetto L'Ultima Foresta Incantata, il Bosco Pantano di Policoro è stato segnalato al focal point italiano di EOFGIS in virtù delle particolari caratteristiche rilevate nei pochi individui di farnia che ancora ospita. L'inclusione nel network EOFGIS, che ad oggi rappresenta la più importante infrastruttura per la conservazione delle specie forestali europee, fornirà nuovi strumenti per la conservazione della farnia in un'area in cui questa specie ha seriamente rischiato l'estinzione.